Si tratta di due denunce che abbiamo formalizzato presso l'autorità giudiziaria di Mantua nei confronti di persone che riteniamo abbiano commesso il reato in un caso di apologia di reato e nell'altro caso di vilipendio delle istituzioni. Quello che voglio dire è che assolutamente viviamo in un paese democratico e per fortuna che la legislazione vigente consente a tutti di scrivere la propria opinione. Qui però si tratta di ben altro, si tratta dell'utilizzo improprio dei social networks per formulare delle valutazioni che rientrano in fattispecie di reato come auspicare un attentato terroristico oppure altre cose del genere. Quindi bisogna stare molto attenti perché l'utilizzo di questi strumenti di comunicazione è molto importante se utilizzato secondo quanto previsto la legge e per gli scopi consentiti. Ma bisogna stare molto attenti così come bisogna stare molto attenti anche a dare i like. C'è un'assistenza della Corte di Cassazione che dice appunto che anche un semplice like nei confronti di affermazioni di questo tipo può comportare una responsabilità penale.